Il giudice ha escluso la sussistenza del delitto di disastro colposo e condannato per omicidio colposo plurimo tre imputate assolvendo gli altri. Saranno le motivazioni a dare atto del percorso logico giuridico che ha condotto alla decisione in parte difforme dalle richieste dei pubblici ministeri e delle parti civili. Interviene così in una nota ufficiale il procuratore capo presso il tribunale di Pescara Giuseppe Belelli in merito alla sentenza pronunciata proprio ieri pomeriggio dal tribunale di Pescara per la tragedia di Rigopiano. La sentenza, dice Belelli, merita rispetto così come rispetto è dovuto al giudice e alla funzione dello stesso esercitata, fermo restando il diritto di critica. Le aggressioni verbali in aula dopo la lettura della sentenza non possono essere tollerate così come non è accettabile il dileggio del magistrato da quiunque posto in essere. Gli atti processuali documentano, prosegue Belelli nella nota, come le indagini siano state svolte in ogni direzione. I reati contestati riguardano esponenti di tutti i settori delle pubbliche amministrazioni interessate alla vicenda, dopo che prima del processo 22 posizioni erano state archiviate. Il giudizio abbreviato allo stato degli atti è stato chiesto dalle difese di tutti e 30 imputati ed accettato dalle parti civile. Va smentita, prosegue Belelli nella nota, con forza l'affermazione che vi sarebbero altri responsabili tenuti fuori dal processo dalla procura della Repubblica. Si tratta di tentativi irresponsabili di sviare l'attenzione e le aspettative dai reali temi del processo e dai fatti mediante la diffusione di fake news. Il contraddittorio nel rispetto delle regole processuali, la dialettica tra accuse difesa, la complessità delle questioni affrontate in tema di cooperazione colposa nel reato, prevedibilità ed evitabilità dell'evento e dovere di impedirlo, giudizio controfattuale nella causalità omissiva, hanno portato ad una sentenza che la Procura della Repubblica non condivide in gran parte e che verosimilmente impugnerà nei capi assolutori, così come proporranno appello i difensori degli imputati condannati. Il giudice, ancora Belelli nella nota, nella solitudine della Camera di Consiglio decide in piena indipendenza, senza dover assecondare le aspettative dell'opinione pubblica, tenendosi solo alle legge e alle risultanze processuali. Resta il dolore e lo sconcerto dei familiari, conclude Belelli, e la difficoltà dell'opinione pubblica è di comprendere ad accettare una sentenza pronunciata in nome del popolo italiano, fortemente divergente dalle richieste dei pubblici ministeri e delle difese delle parti civili e da legittime aspettative di giustizia. Si auspica, conclude il procuratore capo, che tale disarmonia, che può apparire incomprensibile e della quale anche i magistrati della Procura della Repubblica di Pescara intendono farsi carico, possa ricomporsi dopo la lettura delle motivazioni della sentenza o nei successivi gradi di giudizio. Se è vero, come affermò uno dei padri costituenti, l'avvocato Piero Calamandrei, davanti al Tribunale, che le leggi, perché non siano formule vuote, devono scaturire dalle coscienze di cittadini, devono essere sentite come nostre.